salve ben ritrovati amici trailer di paul phoenix sarò sincero io non pensavo di fare questa video reaction però a quanto vedo dai commenti di youtube si è fatta una si è creata una piccola fanbase di persone che vogliono vedere le mie reaction quindi facciamolo è inaspettato diciamo che sono contento di questa cosa mi fa piacere quindi vi accontento anche perché non mi costa molto in realtà a fare queste reaction quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta paul phoenix ovviamente un personaggio importante per tecken si sapeva già della sua presenza si sapeva già del suo nuovo look che a me personalmente non piace per niente e l'avevano già mostrato le meccaniche del gioco usando paul quindi più o meno già si sapeva come funziona come sa come avrebbe funzionato il personaggio scusatemi allora vabbè mossa molto semplice molto street fighteriana questa combinazione mossa più counter hit per terra phoenix smasher tipica combo da 3 ignorante e basica while standing 3 while standing 4 scusate punizione questa è roba classica diciamo di tecken non c'è niente di nuovo ecco qui iniziano le porcate perché qui come al solito vediamo un modo di usare l'armor che si è efficace però è la cosa giusta da fare sotto frame non lo so quindi lui tira una mossa meno assorbe tutti i colpi sbatte a muro combo che probabilmente farà malissimo ok qui arriva il drive engager il hit engager phoenix smasher che è ovviamente un hit engager d'altra parte è la mossa più caratteristica del personaggio sarei stato sorpreso del contrario mettiamola così ecco l'hit engager quindi arriva il 50 e 50 che disprezzo tanto alla street fighter 5 ormai in realtà sapete cos'è si standardizza anche l'offensiva secondo me così perché tutti fanno sta roba qua hit engager ti corre in faccia 50 e 50 quindi in un certo senso i personaggi diventano più simili tra loro rispetto ai vecchi tecker perché tutti più o meno hanno la stessa struttura tutti sanno che bisogna usare l'hit engager entrare a contatto con l'avversario stordito come vedete in questo fermo immagine e poi forzare un 50 e 50 guardando e riguardando questi trailer adesso che stanno arrivando più e più personaggi mi rendo conto che questo standardizza un sacco l'offensiva del gioco ripeto sono considerazioni preliminari si spera che io possa toccare con mano presto il gioco e possa darvi delle impressioni un po più stratificate però mi sembra un'offensiva molto standardizzata però al contempo che aiuta i neofiti a dividere in sezioni i round quindi capire quando sono in vantaggio perché anche un imbecille capisce qui che poi le vantaggio sta attaccando e ci sono un sacco di indizi molto forti vedi l'aura blu intorno le fiamme vedi il personaggio dell'avversario stordito chiunque capisce che chi sta attaccando e che in vantaggio in questo momento e questo è sicuramente il punto a cui vuole arrivare banda in alto cioè vogliono arrivare a una definizione precisa anche per i casual delle fasi dell'incontro bene questo è un altro hit engage perché è un po strano sembra tipo un just frame con una ginocchiata ecco vedete fatemelo vedere meglio non sembra una presa più che altro vediamo come inizio no non è una presa è tipo un just frame è una mossa strana perché un nuovo indicatore a una nuova scintilla se vedete questa scintilla un po io non l'ho mai vista poi mi correggerete se sbaglio questa scintilla qua lo prende fa partire l'animazione ginocchiella e entra in hit e ovviamente in vantaggio infatti poi fa una mossa in vantaggio altra ulteriore porcata mossa caricata che on block quindi anche se l'avversario sta parando sbatti a muro e lo porta a una combo enorme questa farà sicuramente malissimo il cancel con con lit potete vedere qui bella questa questa transizione mi è piaciuta francamente molto carina tra l'altro una mossa nuova per poi analizziamo questa sequenza quindi lui qui prende il counter hit cancella quindi probabilmente questa mossa sarebbe stata in vantaggio anche in caso di parata da parte dell'avversario l'avversario però viene colpito come vedete paul estingue le fiamme adesso è tornato normale perché ha sprecato lo stato di hit per fare questo scatto in avanti dopodiché procede con la sua combo che è abbastanza tipica tranne questo questa finisher che è nuova stordisce in counter hit e poi ci fa vedere ovviamente la rage art io ormai la chiamo così la chiamerò per sempre così che è un po deludente è un pugno è un pugno la cosa figa però che gli si strappa gli si strappa la manica per fare questo pugno quindi sì carina dal punto di vista coreografico diciamo però dal punto di vista del gameplay non aggiunge tantissimo qui si vedono ovviamente gli stage acquistrati che già erano presenti in tekken 7 tutto sommato è un trailer come gli altri mostra le stesse meccaniche mostra il fatto che appunto si sia standardizzata l'offensiva dei personaggi perché tutto ruoterà attorno alle mosse chiave che sono gli ten legger e phoenix nascere un inter legger ovviamente come ci aspettavamo quindi niente è un trailer e un trailer l'ho fatto vedere paolo mio aspetto di vedere personaggi un po più audaci perché questi diciamo sono il cast base sono un po il riu e ken di tecni street fighter aspettiamo di vedere personaggi un po più sperimentali vediamo se cambia il combat system anche se penso che ormai la direzione intrapresa dal team di sviluppo è questa anche a livello di trailer molto probabilmente nei prossimi faranno vedere it engage ritengager 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 un paio di combo di esempio rage art chiusura trailer questo è più o meno lo schema di marketing che stava andando avanti bandai lanco che non è una cosa negativa cioè fa vedere le mosse chiave però anche il taglio di questi trailer vi fa capire che combat system molto probabilmente girerà molto attorno a questi it engage vedremo chi vivrà vedrà per adesso vi rimando al prossimo video ciao